Ciao a tutti, sono Desti e facciamo il portmante, adesso andiamo a vedere che vogliamo insomma forse, ma vediamo le classifiche come diciassettesimo, ma di cosa poi scusa, magari è il mondo, se qualcuno raccoglie della roba che non la può avere adesso, prendo un pompa, tante robe, sembra che siamo tutti d'accordo, ma dai c'è scritto più 14? Grazie. Grazie. Come il mio alleato mi ha tradito così? Non c'è niente, quanto roba che mi stai dando? Grazie. 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 Il fucile da caccia è buono comunque. avrei preferito un pompo però vieni cosa cosa dove quando perché come in quale mondo ora che c'è tanta gente che se non si puce qua no 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 la faccio ha un colpo in più ti stavo cosa colpi? di cose eh no anche io ce l'ho vuoi vedere? anche a me servono a me servono qua saranno i colpi con le grasse un po' or il dove che la vedi la gente? ah la vedo anche io ora spalano la roba forte qui si qui se il capo sono ma come faccio? no ne avevo ucciso un botto due avevo fatto la strage che cavolo a me servono qui sono io ah non vorrei ah non vorrei ah non vorrei mi hai fatto prendere paura se volete qualcuno che se dice qualcosa sia vero ora chiamate pure cosa dove quando perché ma dai una roba decente ma ma così è gol facile ecco questa è la porta ma è proprio no vado io no basta è un golador sì vado io stavolta no ma perché avete messo sto muro ma il pallone d'oro immediatamente immediatamente vediamo se riesco no no ce l'ho io scatta sulla fascia rientra e si si segnala qui vabbè 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 andiamo dai miei amici oh ma ma qualcosa di nuovo c'è ma la paura ecco bene allora in posta di sta doppietta che non si sa mai oh grazie grazie signor con quale vacuola no 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 ne ho preso 12 sono forte dovremmo andare voi proprio amici degli alberi dove? eh sì domani ci arriviamo lì l'ignorubati 4 siamo messi benissimo tutti con 100 più scura e non sto mentendo capito? ma che c***o da dove poi? da dove? da dove? dove? non ho capito definite ah eliminata dov'è? da dove? là io cambio gioco giochiamo a fifa dov'è che sta oh là madonna sento le cose brutte ma stavo costruendo vabbè spero che il video vi sia scrivete lasciate un commento mi piace per le tre kill e noi ci vediamo in un prossimo video ma zara che zara mento e non sto mentendo capito? ma che c***o da dove poi? a dove? da dove? da dove? non ho capito definite ah eliminata dove? da dove? da dove? da dove? io cambio gioco giochiamo a fifa dov'è che sta oh là madonna sento le cose brutte ma stavo costruendo vabbè spero che il video vi sia scrivete lasciate un commento mi piace per le tre kill e noi ci vediamo in un prossimo video ciao And I gotta stay high all the time And I gotta stay high all the time And I gotta stay high all the time To keep you in my mind